Va bene, adesso andiamo avanti sulle local, però local, macro regione, rivedere le province, insomma il discorso è quello della revisione dell'architettura istituzionale anche con una revisione costituzionale che non è una cosa di cui non si parli in questo periodo, ma il dubbio che viene è un impegno così grosso, così complicato, ma come si fa ad affrontare se non c'è una progettualità e un sostegno vero della politica, peraltro di una politica che non riesce a fare la legge elettorale, la legge anticorruzione e dovrebbe andare a toccare una statia istituzionale dove si vanno a scoprire dei nervi forti, il numero dei posti di potere, assegnazioni eccetera. Come si fa a riuscire a fare questa strada, a riuscire a percorrere questa strada in maniera seria in questo momento? Io sono convinto, io trovo effettivamente molti concetti molto densi, però la parte finale era di una chiarezza estrema, io sono molto d'accordo, cioè nell'ambito dello Stato nazionale, così come adesso, non c'è progresso, non c'è sviluppo per il regionalismo. Infatti lui dice una cosa vera, concepirlo come somma di regioni non funziona e cosa è successo in questi vent'anni in Italia? È successo questo, l'Italia ha rifiutato la costituzione della Padania, semplicemente perché con la Padania non c'è più l'Italia, se nasce la Padania non c'è più l'Italia. E come la Lanzillotta ieri ha fatto una cosa molto acuta, secondo me, provocatoria, ma vera. Scusate, ma la regione Lazio va sciolta, ha detto. Perché siccome c'è l'area metropolitana a Roma, mi dite voi quando abbiamo fatto questo buco aria metropolitana che cos'è la regione Lazio? Cos'è Viterbo, la Ciociaria, questi frattagli intorno? Dice, le altre frattaglie le diamo alle altre regioni e resta la... Cioè, sono cose vere, sono problemi reali. Allora, però la Padania esiste, cioè esiste non dal punto di vista storico-istituzionale, ma esiste un'area sociale ed economica, omogenea. Molto più omogenea a quello che c'è al di là delle Alpi che a quello che c'è nel sud dell'Italia. Ed è un problema, perché il livello dei salari uguale per tutti gli italiani è uno dei problemi nostri. Il fatto che non ci sia una forte autonomia locale, aziendale, di contrattazione, con diversi livelli di salari, è uno dei gravi problemi dell'Italia. Quindi noi dobbiamo avere, adesso mi capite, una Padania, ma non possiamo avere la Padania che voleva la Lega. Tant'è vero che non è uscito, vent'anni ci hanno provato in tutti i modi, devolution, separazione. E' stata rifiutata innanzitutto dal Paese, diciamoci la verità, addirittura con un referendum, un referendum in cui gli italiani andarono a votare appositamente contro la devolution, pur contenendo cose fantastiche come il dimezzamento dei parlamentari, cose popolarissime. Però devolution no, perché io voglio una costruzione statuale dove siamo tutti uguali. Ho questa costruzione statuale, federale e l'Europa, oppure sei l'Italia, rimaniamo così. Ed è un freno, perché ci impedisce di fare delle cose che andrebbero fatte. Quindi, torniamo all'Europa, torniamo a quella roba... In sostanza anche qui il ragionamento si risolve andando su un altro livello. Quella roba, tenete presente che, bisogna anche capire che questi sono processi storici, c'è uno storico, un autore americano, Dahl, che dice questo è come il processo di passaggio dalla città-stato allo stato-nazione. E' una roba che è durata secoli e in alcuni paesi è arrivata molto tardi, è stata molto lenta e così via. E' un po' lo stesso processo. Se noi concepissimo, tanto per semplificare quello che dice Bassetti, la Padania come la regione-stato che deve confluire in questo grande sistema federale, in questo grande Stato federale che è l'Europa, forse ci risulta tutto più chiaro. Con cui ci sarebbero tantissime cose di cui parlare ancora, purtroppo i tempi sono ancora brevi, però c'erano proprio due punti su cui volevo velocemente andare prima di dare spazio alle domande. Uno, non ne possiamo far meno, il dibattito in questi giorni sulle regioni, come sapete, è alto. È portato da alcuni fatti di cronaca, la regione Lazio è quello che l'ha fatta esplodere, e però non c'è il rischio, prima abbiamo parlato del rischio del populismo e dell'antipolitica, che poi alla fine butta via anche quello di buono che c'è. Qua non c'è il rischio adesso di ragionare su una revisione di un assetto istituzionale vera, necessaria, che ha delle logiche europee, che ha delle logiche economiche. Poi un po' sull'onda anche qui di un populismo, per cui allora le regioni non vanno bene, non vanno bene, e non va bene la regione Sicilia dove si danno lo stipendio di 17 mila euro, giusto i componenti del parlamentino, due ore prima che blochino gli stipendi a tutti, i dipendenti regionali, dirigenti compresi. Non c'è il rischio di mettere insieme poi un po' tutto e di dire, vabbè, allora non va bene, e in questo caso poi di far andare su una strada sbagliata il discorso della revisione istituzionale. Sì, adesso c'è il rischio che dicano, viva le province, le province sono il vero livello di governo del territorio, basta con le regioni, torniamo con le province, se tutto è possibile in Italia. Però, però, diciamo, queste vicende hanno il merito di aver toccato un punto aperto, secondo me, sul regionalismo. Intanto, come dire, la confusione dei livelli di governo, che è stata resa molto elevata dalla riforma costituzionale del titolo V, che è stata una cosa frettolosa e un po' pericolosa anche per molti aspetti, a cui non si è riuscito ancora a mettere completamente... Guardate che adesso, con tutto il rispetto per il regionalismo, l'idea che la sede vera del potere decisionale in Italia sia diventata negli ultimi anni la conferenza Stato-Regioni, perché lì, anche se devi fare i soldi per la cassa integrazione straordinaria, devi chiedere alle regioni che ti ridiano quelli dei fondi... Cioè, ormai era tutto contrattato... Che è un problema che esiste nei federalismi, però altrove è risolto con qualche forma istituzionale, tipo, non so, la Senato delle Regioni, il Bundesrat, cioè c'è un posto dove questi interessi vengono confrontati, ma c'è un meccanismo istituzionale. E anche in Germania è stato cambiato di recente. Una delle riforme, diciamo, più importanti che la Germania fece è quello di rivedere questo rapporto tra Stato-Centrale e Regioni sul piano della decisione. Certo, questa cosa fa cadere due miti. Uno è il mito del... diciamo, che la classe politica più vicina all'elettorato, più prossima all'elettorato, sia meglio. A me non è così. La storia di Fiorito è la storia di un signore delle preferenze, un uomo che prende 30.000 preferenze quando ha eletto la Regione. E se posso dirlo, anche la storia di molti consiglieri regionali lombardi che sono finiti sotto inchiesta, è una storia, diciamo, di gente che prende voti, prende voti dell'elettorato, prende preferenze. Quindi non è lì, diciamo, o almeno, non è solo lì la soluzione. Cioè non è che basta avvicinarli... L'altro tema è il tema anche un po' degli italiani. Perché, insomma, gli italiani che sono notoriamente un popolo che è stato disposto in passato... Cioè, voglio dire, non è solo un problema degli eletti, è anche un problema degli elettori. Perché gli elettori liberamente votano per personaggi come Fiorito. Io, quando ho fatto il parlamentare della Repubblica, due anni, diciamo, sì, che per me fu un periodo infinito, non venivano che finisse, però la cosa che più mi ha stupito, invece io non sono milanese, romano, ma sono napoletano, la cosa più incredibile che mi è successa è il livello di pretesa di favori che veniva da chiunque incontrassi. Cioè, il fatto di essere un parlamentare comportava che io dovessi ascoltare una richiesta di favori e accedervi anche. Anche quando facevo notare che il favore a uno era il disfavore a un altro, perché se tuo figlio lo aiuto a entrare in una facoltà di medicina ci sarà un altro che non c'entra. E la risposta dice, no, ma quello o quell'altro pure ha la raccomandazione pure lui. Quindi è una questione di metterci alla pari, è una questione di equità. Di equità, cioè, pari, come dire, di livellare il terreno di gioco, come si dice. Gli italiani ragionano così e pensano che questa sia la funzione dell'eletto. Quindi c'è anche un problema molto serio, perché c'è in assoluto un'abitudine degli italiani a scambiare un po' di benessere, scambiare un po' di libertà per un po' di benessere, che è una tendenza generalmente pericolosa di questo paese che non a caso ha conosciuto, diciamo, nella sua storia anche qualche dittatura. Ma a cui si è giunta la retorica dei diritti, diciamo, costruita intorno al suo movimento sociale degli anni 70, che ha coperto col manto di questa parola pretese corporative, richieste di favoritismi, concezioni di favore che si sono create nella regione siciliana. Quindi questo è, secondo me, un problema che la vicenda delle regioni sta mettendo a nudo. Oltre a un fatto, anche lì andrebbe affrontato il tema della regione istituzionale speciale. Certo. Che secondo me andrebbe rivisto. A questo punto forse sì.